Fabio Magno, limpionico, cavaliere di punta della nostra nazionale italiana che ci illustrerà, secondo le sue sensazioni, la nostra sella DX che lui usa attualmente per le sue gare. Io uso questa sella da un anno, ho iniziato a usarla e devo dire che è una sella molto leggera, ti permette di stare molto vicino al cavallo, soprattutto trovo che sia molto utile in campagna, sui salti dove ci sono dislivelli, quindi cambiamenti di equilibrio improvvisi ti dà molta solidità. Devo dire che ho trovato molto vantaggio su tanti cavalli, sentire nel migliorare anche la qualità del salto, proprio alla sua leggerezza, anche ai cuscini che sono molto morbidi. e poi grazie a Carlo Di Bello che è sempre molto premuroso nelle modifiche da fare per i cambiamenti per i diversi cavalli che hanno conformazioni diverse. Poi, oltre a questa sella, io sto usando la sella modello Laura Cons, quest'anno l'ho usata parecchio, ho fatto anche parecchie gare e devo dire che è una sella dove ti permette di sedere in maniera molto morbida perché ti fa inforcare in modo naturale, senza avere contrazioni. Allora, una sella prestige innanzitutto dal feedback che noi abbiamo dai vari cavalieri e dai vari rivenditori che appunto abbiamo in tutto il mondo, logicamente abbiamo uno studio grafico che aiuta anche per quanto rivale a livello estetico della sella a costruire, a ottimizzare questo prodotto che poi alla fine in ogni caso verrà testato dal cavaliero, dal cliente finale, per cui abbiamo anche un risponso, un feedback positivo. Una sella anche quella molto valida pur essendo una sella ad dressage che comunque lo stesso lavoro comporta uno stress maggiore ai cavalli perché si lavora sempre seduti e devo dire invece è una sella veramente valida. «I love Prestige» «I love Prestige» Grazie per la visione!